Rilancia l'idea di raddoppiare gli uffizi per mostrare il patrimonio mai visto, tutto ciò che oggi giace nei depositi del più importante museo italiano. A farlo è il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano. L'Italia ha 5 milioni di opere d'arte, ma ne esponiamo solo 480 mila, dice. Se gli stranieri avessero quello che abbiamo noi nei depositi farebbero faville. Il tema, dunque, è rendere accessibile anche quello che si trova all'interno dei depositi. L'idea non è nuova, ciò che manca è il luogo adatto dove poter mostrare quelle opere. E adesso il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, rilancia un suo vecchio pallino. Al momento non sappiamo dove poter realizzare quello che il ministro chiama gli Uffizi 2. Si potrebbe però pensare al castello di San Mezzano, che il ministero, attraverso lo stesso Sgarbi, sta cercando di acquistare. Va detto che non è facile, ci sono, da contattare i proprietari e capire tanti aspetti della vicenda. Ma ritengo che lo Stato debba fare un tentativo per salvare quel capolavoro. E forse, considerati i tanti spazi che si trovano, una sezione potrebbe essere destinata ad una parte di opere conservate nei depositi degli Uffizi. Per adesso è solo un'idea su cui lavorare, dice ancora Sgarbi alla Nazione, che prossimamente cercheremo di approfondire. Nel frattempo vanno avanti i lavori per l'ampiamento del complesso vasariano, un'opera monumentale che va avanti purtroppo da tanto tempo.